La sua auto si schianta contro un camion lungo la ferrata, così nel pomeriggio ha perso la vita un ragazzo di 22 anni di Bertiolo, il terribile incidente ha caduto a sterpo, il mezzo pesante ha perso il carico, strada chiusa. È partita nella seconda circoscrizione Audi, nella raccolta dei rifiuti con il nuovo sistema casa per casa, c'è ancora confusione tra i cittadini e per strada restano le immondizie, mal conferite l'assessore Olivotto, miglioreremo. La Camera approva un emendamento che aumenta l'indennità ai sindaci, ma il provvedimento non riguarda il Friuli Venezia Giulia, dove i primi cittadini dei capoluoghi di provincia guadagnano la metà del collega di Bolzano. Raccolte oltre 500 tonnellate di alimenti in occasione della 23esima giornata nazionale della colletta alimentare in regione nel Veneto orientale, il cibo sarà distribuito in 351 strutture caritative che operano sul territorio. Udinesi in ritiro da questa sera dopo la sconfitta di Roma. Si tratta di un anticipo di 24 ore rispetto al ritrovo previsto per preparare la sfida di Coppa Italia mercoledì al Friuli contro il Bologna. A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia che apriamo subito con la cronaca. Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita questo pomeriggio in un terribile incidente stradale accaduto lungo la ferrata a Sterpo. La sua auto si è scontrata con un mezzo pesante che poi ha perso il carico. Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Sterpo di Bertiolo lungo la strada ferrata dove si sono scontrati un'auto articolata e una vettura. A bordo della macchina viaggiava un ragazzo di 22 anni residente a Bertiolo Lorenzo Viscardis nipote della sindaca Leonora Viscardis. Nell'impatto che è stato tremendo il ragazzo ha perso la vita sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. Per liberarlo dalle lamiere contorte i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Codroipo hanno dovuto lavorare per oltre un'ora. Il camion che stava trasportando dei pannelli è finito fuori strada, la motrice e la cabina sono rimaste incastrate letteralmente in un campo mentre una porzione della parte posteriore dell'auto articolato e del carico sono rimasti sospesi tra la strada e la campagna. La macchina condotta dal 22enne si è capotata, più volte ha finito la sua tragica corsa sempre in mezzo a un campo. La strada è rimasta chiusa per ore per consentire la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della carreggiata. Cercheranno di fare luce sulla dinamica dello schianto gli agenti della polizia locale del Medio Friuli con sede a Codroipo che hanno operato con il supporto della Guardia di Finanza di San Giorgio di Nogaro per la viabilità. Entra in un locale, lancia uno sgabello contro una vetrata e minaccia i presenti impugnando due coltelli, uno per mano. Paura, ieri sera all'interno della pasticceria Gangi di Via Grazzano a Udine è successo verso le 19 quando un uomo, un italiano di 46 anni, molto probabilmente ubriaco, in stato confusionale è entrato nella bottega artigiana creando il caos fra la decina di clienti presenti, tra cui anche due bambini piccoli. Alcune persone si sono rifugiate in bagno, altre sono rimaste lì senza intervenire. L'aggressore è poi scappato, nella fuga ha fatto cadere danneggiandolo uno scooter che lo intralciava. Scattato immediatamente l'allarme, due agenti della volante pochi minuti dopo hanno individuato l'uomo mentre tentava di scavalcare il muro di cinta di un giardino privato. I poliziotti sono stati a loro volta minacciati di morte con i coltelli ma sono riusciti a immobilizzare l'uomo che è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale. È stato deferito all'autorità giudiziaria per minacce aggravate, danneggiamento aggravato e per il porto abusivo di coltelli. A questo si è aggiunta la denuncia dei titolari della pasticceria Gangi. Stamattina, dopo la convalida dell'arresto, il GIP ha disposto per lui la misura cautelare dell'obbligo di dimora a Udine con permanenza domiciliare notturna ed obbligo di presentazione quotidiana in questura per la firma. Stalker si avvicina alla ex. Nonostante il divieto, lei ha un attacco di panico, lui viene arrestato. Un uomo di 27 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato sabato sera dalla polizia e portato in carcere a Udine in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex. L'uomo era stato denunciato la scorsa estate dalla squadra mobile per violenza sessuale e atti persecutori ai danni dell'allora fidanzata. L'uomo era stato quindi sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati. Gli era stato anche vietato di comunicare con la ragazza. La sera del 26 novembre scorso, tuttavia, l'ha trovata nei pressi della stazione ferroviaria, l'ha avvicinata turbandola al punto tale da provocarle un attacco di panico per cui si è reso necessario l'intervento dei sanitari. È un paese sconvolto e senza parole Muzzana del Turniano per la morte di Francesco Mazzega che si è tolto la vita sabato sera poche ore dalla sentenza che confermava per lui la condanna a 30 anni di carcere per l'omicidio di Nadia Orlando. La comunità si stringe attorno alla famiglia del 37enne ma anche a quella della vittima, la giovane di Vidulis di Dignano. C'è veramente poca voglia di parlare qui a Muzzana del Turniano dopo il grave lutto che ha colpito la comunità. Le persone si stringono intorno alla famiglia di Francesco Mazzega e faccio tanta vicinanza alla famiglia di Nadia Orlando. Un lutto che colpisce due comunità. Siamo andati a sentire cosa ne pensa la popolazione qui a Muzzana. Dispiace più che altro per la famiglia che oltre la prima e anche per la seconda. forse anche per la seconda. D'altronde le cose sono così. Non ho parole, non ho parole da dire. Mi dispiace per i genitori e non posso dire niente. Conoscevi i genitori? Madonna! Conoscevo brava gente, sia il papà che la mamma. Veramente bravi. Mi dispiace per loro. Mi conoscevo bene il papà, la mamma, anche il ragazzo. Lì conoscevo bene tutta la famiglia. Ma cosa si deve dire? Cosa dobbiamo dire? Io faccio le miglior condolianze per quello che è successo perché sento proprio dentro di me un dolore per tutto quanto insieme. Non vale la pena. Se ciò doveva succedere, lo so, se la sentiva a lui. Non accettava questa cosa qui, ecco. Non ha accettato questa cosa qui. Praticamente lui si vede che immaginava, immaginava da tempo forse. Gli puntano contro il revolvere, lo rapinano. Nel pomeriggio di ieri gli agenti delle volanti della questura di Udine hanno deferito in stato di libertà per rapina due giovani udinesi. Nel primo pomeriggio avevano sottratto ad un uomo 1200 euro e un orologio minacciandolo con una pistola a tamburo per poi dileguarsi. Sono stati individuati. Trovato con la droga in casa e nel furgone, un imprenditore finisce in manette. Nel pomeriggio del 25 novembre i carabinieri del Nord e della compagnia di Gorizia hanno controllato un furgone condotto da un imprenditore goriziano. È stato rinvenuto un barattolo con 50 grammi di marijuana. L'uomo è stato accompagnato in caserma per accertamenti e a seguito di una perquisizione nella sua abitazione, in quella della compagna, i carabinieri hanno trovato 450 grammi di marijuana. Trovati poi un bilancino di precisione, numerosi semi, sempre di marijuana. L'imprenditore è stato arrestato, la compagna denunciata a piede libero. L'uomo è stato portato nel carcere di Gorizia e poi nei giorni seguenti il GIP ha convalidato l'arresto. Rimesso in libertà, all'imprenditore è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di dimora, oltre al divieto di lasciare la propria abitazione nelle ore notturne. Esce di casa e non vi fa più ritorno. Ricerche tra Varmo e Morsano. Si tratta di un uomo di 59 anni. I vigili del fuoco lo stanno cercando all'altezza del ponte di Madrisio, dove è stata ritrovata la sua vettura. Ferma a poca distanza dal ponte di Madrisio, tra Varmo e Morsano. al tagliamento nel tardo pomeriggio di ieri, lungo la provinciale 95. Trovata l'auto, nessuna traccia ancora dell'uomo. Questa mattina presto sono ripartite le ricerche da parte dei vigili del fuoco del comando di Pordenone e anche dei carabinieri del comando di Pordenone. Al momento purtroppo ancora nessuna novità. Primo ritiro dei rifiuti. Questa mattina Udine nella seconda circoscrizione all'insegna del nuovo sistema di raccolta casa per casa. Saltano subito all'occhio le prime problematiche legate anche ai conferimenti non corretti da parte dei cittadini, tra i quali c'è ancora molta confusione. Andiamo allora a vedere come è andata. Dopo le tante polemiche delle scorse settimane, questa mattina nella circoscrizione 2 di Udine è partito il tanto discusso sistema di raccolta NET denominato casa per casa. Il primo rifiuto a dover essere conferito dai cittadini riguardava i soli rifiuti organici da posizionare all'interno dei soli recipienti marroni. Facendo un giro per i quartieri coinvolti saltano all'occhio però diverse problematiche. bidoni pieni d'acqua piovane in quanto i contenitori svuotati vengono lasciati scoperchiati, rifiuti non conferiti correttamente, l'utilizzo di sacchetti di plastica non corretti in quanto non biodegradabili, pannolini o sacchi di immondizia indifferenziata di vetro o di plastiche lasciati al fianco dei bidoncini nella speranza vana di un eventuale ritiro e cestini pubblici letteralmente presi d'assalto per il conferimento del materiale oggi non in ritiro. Ma non è finita, nelle vecchie aree o piazzole che ospitavano i cassonetti dell'immondizia poi eliminati si assiste a scene quasi mai viste a Udine con accumule di rifiuti che ricordano quanto visto recentemente anche a Roma e in altre città italiane. Sono dunque diverse le criticità da risolvere per ottimizzare al meglio il sistema ma come per tutte le novità serviranno pazienza, impegno e un po' di sacrificio da parte dei cittadini lo stesso che stanno dimostrando gli operatori ecologici impegnati in uno sforzo notevole nelle fasi di carico e scarico dei bidoncini. I più contenti? Ovviamente chi abita nelle palazzine ed è riuscito a scegliere l'opzione dei contenitori condominali o chi risiede nelle abitazioni singole. Siamo al Villaggio del Sole col signor Giuseppe com'è andata questa prima raccolta? Vabbè, un'abitudine giusto, giusto. Vediamo se ha studiato. Domani che raccolta c'è? La carta. Stasera. Colore? Il colore blu. Situazione totalmente differente invece per chi abita nei condomini e si è visto recapitare i contenitori singoli familiari. Qui, ad esempio, siamo a Villaggio del Sole in un condominio di 60 unità abitative dove sono stati consegnati ben 300 recipienti. Non solo è difficile riconoscere e ritirare il proprio contenitore ma si è costretti a sporcarsi le mani chiudendo i coperchi alla ricerca dei propri simboli identificativi. Forse andavano meglio i cassonetti condominali. Non ci è stato detto niente, non abbiamo avuto nessuna riunione e il nostro amministratore ha detto che ha richiesto più volte al comune una riunione, qualcosa non è stato risposto. Quindi 60 famiglie e 60 bidoncini ogni giorno? Ogni giorno, ogni giorno e dopo si difficoltà anche a trovare il proprio e tutte queste cose. Ecco, come funziona? Avete messo un segno di riconoscimento? Sì, io ho messo un segno di riconoscimento. Adesso guarderò se... Me lo fa vedere, è giusto per curiosità. Vediamo. E proprio nel giorno del battesimo della nuova raccolta rifiuti i consumatori attivi è tornata in piazza per protestare dopo la manifestazione di sabato in via Podgora. Questa mattina un centinaio di cittadini si è presentato in piazzetta Lionello sotto la sede del comune di Udine per chiedere sanzioni a chi conferisce in maniera errata per chiedere anche bidoni intelligenti e isole ecologiche per migliorare un sistema considerato partito. Con il piede sbagliato tendiamo la mano all'amministrazione ha detto al megafono la presidente Barbara Puschiasis rivolgendosi alla balconata del primo piano. Ma dobbiamo fare in modo che Udine resti una città pulita e senza rifiuti. I bidoncini, ha spiegato Puschiasis, sono antiestetici e creano intralcio ai disabili. Servono tanti correttivi anche perché si rischia che la Tari attualmente una delle tasse su rifiuti più basse d'Italia aumenti nonostante le garanzie dell'amministrazione. Alla fine una rappresentanza di cittadini guidata dalla stessa Puschiasis è salita in municipio per un incontro con l'assessore Olivotto. E proprio l'assessore Olivotto dice che il sistema di raccolta dei rifiuti casa per casa è perfettibile valutando ogni singolo caso. L'assessore all'ambiente del comune di Udine rassicura i cittadini e invita loro a segnalare appunto i disagi per ottimizzare il sistema. Sulla raccolta differenziata spinta non torneremo indietro ma sicuramente il sistema potrà essere migliorato con correttivi dove le cose non funzionano. Così l'assessore all'ambiente del comune di Udine Silvano Olivotto risponde alle polemiche dopo il primo giorno d'avvio della raccolta porta a porta. Secondo la NET le cose hanno funzionato bene per essere primo giorno spiega Olivotto che oggi ha anche incontrato i rappresentanti del comitato consumatori attivi raccogliendone le osservazioni. Tutto è perfettibile, non andrei a drammatizzare il primo giorno continua l'assessore evidenziando che la delibera è elastica. Noi lavoriamo nell'interesse dei cittadini ha detto ancora e farò presente alla NET i disguidi le criticità che possono essere emerse. Io sono l'organo politico ma è l'organo tecnico che deve occuparsene e bisogna trovare la soluzione più idonea per ogni luogo e situazione. Olivotto sottolinea di avere la sensazione che il problema sia anche strumentalizzato dalla politica e di essere comunque a disposizione per ogni chiarimento. La Commissione Finanze alla Camera approva un emendamento che stabilisce l'incremento dell'indennità ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti. Il provvedimento però non riguarda il Friuli Venezia Giulia in quanto regione a statuto speciale. Scopriamo così che i sindaci dei capoluoghi di provincia del Friuli Venezia Giulia percepiscono la metà di quanto incassa il primo cittadino di Bolzano. Sarà la stessa regione a valutare l'aumento delle indennità sulla base di una proposta del Consiglio delle Autonomie Locali. In Friuli Venezia Giulia i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti non usufruiranno dell'aumento dell'indennità previsto da un emendamento approvato dalla Commissione Finanze della Camera. Essendo regione a statuto speciale, spiega il direttore del Lancia Alessandro Fabbro, è la stessa giunta a determinare eventuali adeguamenti delle indennità compreso il loro ammontare. La prima Commissione del Consiglio delle Autonomie Locali ha presentato alla regione, che tra l'altro l'aveva sollecitata, una proposta articolata quale soluzione alle esigenze già emerse anche a livello nazionale. Riguardano, continua Fabbro, la grande responsabilità che ha un sindaco a prescindere dalle dimensioni del Comune che amministra e il tempo da dedicare alla gestione della cosa pubblica a fronte di una remunerazione del tutto fuori scala rispetto al suo ruolo. Attualmente in Friuli Venezia Giulia, ci spiega Fabbro, gli stipendi dei sindaci sono divisi in cinque fasce per numero d'abitanti. Variano da importi lordi sotto i 1.000 euro per comuni fino a 1.000 abitanti per arrivare a 6.000 euro lordi nei capoluoghi di provincia. A queste cifre si sommano eventuali rimborsi che sono a carico del Comune stesso e importi variabili rispetto alla situazione professionale di ogni amministratore. E pensare, conclude il direttore di Anci e FWG, che nelle altre regioni del Nord a statuto speciale, come la nostra, le indennità sono molto più alte. E per rendere meglio l'idea, usa Trieste per un paragone con Bolzano, il cui primo cittadino percepisce il doppio rispetto a quello del capoluogo giuliano. E con Trento, che ne prende 2.000 in più. Fa ecco il Presidente della Prima Commissione del Consiglio delle Autonomie Locali, Roberto Revellant, il quale sottolinea che l'indenità degli amministratori dei comuni più piccoli del Friuli Venezia Giulia è addirittura inferiore a quella nazionale rilevata nel 2001. La nostra proposta, spiega Revellant, riguarda un incremento del 30% per le indennità nei comuni più piccoli fino a un massimo dell'8% per quelli più grandi. Inoltre prevede la possibilità di valutare il compito dei sindaci che assumono la responsabilità di posizione organizzativa in assenza di dipendenti di categoria D, come ragioniere o responsabile dell'urbanistica. In questo caso i sindaci firmano, prendendosi rischi senza alcun riconoscimento economico. Ora concludere, Revellant, l'ultima parola spetta alla Regione. In attesa che arrivino gli aumenti di stipendio per i sindaci, arrivano nuove risorse per le PMI del territorio. Supportare il rilancio delle micro e piccole imprese del Friuli Venezia Giulia, questo il principale obiettivo dell'intesa siglata oggi a Udine da Friuli, a Banca di Cividale, Mediocredito FVG e Cassa Centrale Banca, che consentirà l'erogazione di 40 milioni di euro per sostenere oltre 400 aziende. Abbiamo scelto, ha commentato la Presidente di Friuli a Federica Seganti, di dare particolare attenzione alle piccole e piccolissime imprese che compongono la gran parte del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia. È il momento di scommettere sulle idee e le banche del territorio possono farlo meglio degli istituti nazionali, ha detto il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. Mi auguro che possa essere privilegiata la conoscenza diretta delle capacità produttive dell'imprenditore, conclude il Governatore, prima che il suo profilo finanziario. Per uscire dal difficile momento economico bisogna mettere al centro la metalmeccanica che resta la vera forza del Friuli Venezia Giulia. Per farlo servono investimenti su tecnologia e personale. A dirlo l'ex direttore dell'INA, il Maurizio Castro, il segretario generale FIM CISL, Marco Bentivogli. La manifattura e in particolare la metalmeccanica devono essere le leve su cui fare forza per affrontare l'attuale momento di rallentamento economico. Ne è convinto Maurizio Castro, ex direttore del personale di Elettolus Italia, già senatore e direttore dell'INAIL, presente oggi a Pordenone per il convegno Risorse Umane e Innovazione Strategica, organizzato da HR&O Consulting. Che crisi vi sia è indubitabile. L'auto in particolare, impegnata in una drammatica trasformazione dal motore tradizionale al motore elettrico che ha con sé appesantimenti importanti anche sul versante occupazionale oltre che tecnologico. Però le ricette sono sempre le stesse. Più crescita, più presidio qualitativo dei sementi pregiati e più managerialità. Questi tre elementi credo consentano alla manifattura friulana di restare leader e di far crescere anche tanti altri settori che oggi arrancano. Le aziende però dovranno tenere duro per almeno un paio d'anni. Questa fase di affaticamento durerà ancora per tutto il 2020 e 2021. Dobbiamo traguardarci dal 22 in avanti e se tra l'altro sul piano esterno, sul piano istituzionale, se ne approfittasse per qualche riforma di sistema, non è che questo danneggerebbe il vigore competitivo delle nostre imprese. Gli fai con Marco Bentivogli, segretario generale FIM della CISL, che mette al centro del rilancio i lavoratori. In tutta Italia il 52% delle esportazioni sono metallmeccaniche. L'economia friulana appoggia molto sull'industria e molto sull'industria metallmeccanica. Bisogna ritornare a investire, investire in nuove tecnologie, investire insieme alle nuove tecnologie in competenze. Si esce dalla crisi puntando sui lavoratori e per questo è importante investire su di loro, rinnovare i contratti e in scadenza il contratto nazionale dei metallmeccanici. Bisogna fare presto e bene perché questo può ricreare un clima di fiducia utile a tornare a investire. Il friulano Piero Petrucco, vicepresidente e amministratore delegato della Icop di Basiliano, già presidente della Consulta Nazionale delle Specializzazioni e vicepresidente di Ance Nazionale, è stato designato vicepresidente della Federazione Europea dell'Industria delle Costruzioni. Lo ha reso noto Confindustria Udine. È la prima volta che un rappresentante friulano raggiunge una simile posizione negli organismi associativi di categoria. Fantoni alla conquista di Londra, commessa da un milione di euro per l'azienda di Osop, che ha fornito 250 postazioni di lavoro per gli uffici londinesi di Gensler, una delle maggiori società di design e architettura al mondo. Fantoni è stata coinvolta nella fornitura e nell'ideazione e sviluppo di un innovativo concept di ufficio tradottora nella nuova collezione Atelier. La prima fornitura di 250 postazioni del valore di un milione di euro è stata allestita nelle scorse settimane nel quartier generale di Gensler a Londra e nel frattempo la società di progettazione ha già commissionato altre 200 postazioni. Sono oltre 500 le tonnellate di alimenti raccolte in occasione della 23esima giornata nazionale della colletta alimentare in Fariuli Venezia Giulia, Veneto orientale. Come è andata? È andata come l'anno scorso? Forse un po' meno avete raccolto come quantitativo? Sì, abbiamo raccolto qualche tonnellata in meno, abbiamo comunque superato le 500, che è un risultato molto buono e questo è ancora una volta la prova della generosità delle persone, soprattutto del nostro territorio. I friulani ancora una volta hanno confermato la propria generosità per le persone che vivono in uno stato di difficoltà. Abbiamo avuto veramente tantissimi volontari quest'anno nella nostra zona di competenza, Friuli Venezia Giulia ma anche Veneto orientale, abbiamo avuto circa 10-11 mila volontari che hanno presidiato 805 punti vendita e questi volontari veramente sono stati di ogni categoria. Abbiamo avuto dalle solite associazioni che ci hanno sempre aiutato, la protezione civile, gli alpini, tutte le associazioni caritative che noi abbiamo e anche tutte le realtà associative ai vari gruppi. Abbiamo avuto tantissimi studenti, come dicevi prima, grazie anche a una campagna di promozione del volontariato che da circa un anno e mezzo portiamo avanti nelle scuole. E questo è un segnale buono, secondo me, perché vedere dei giovani che si danno così da fare è qualcosa di positivo anche per gli altri che vedono. Magali Sare ha vinto la quinta edizione di Sunse Europe, il festival s'è concluso al Teatrone di Udine. Per Sunse Europe, Festival Europeo delle Arti in Lingua Minorizzata, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ha fatto da splendida cornicia all'evento Clou di una 15 giorni di musica, arti performative, cinema, letteratura e solidarietà che hanno trasformato il capoluogo friulano in crocevia di culture, lingue ed artisti a creare contaminazioni e confronti con produzioni artistiche di valore. Con presentazione della cantautrice ladina Martina Iori e del rapper friulano Doro Già, la serata del Giovanni da Udine ha avuto per apice le premiazioni degli artisti selezionati da apposita giuria e dal pubblico del teatro fra i dieci gruppi che si sono avvicendati sul palco provenienti dalle isole Faroe, Galizia, Paesi Catalani, Bassa Sassonia, Sardegna, Galles, Cantone dei Grigioni, Occitania, Paesi Baschi e quello del Friuli a fare gli onori di casa. Nato nel 2009 a Udine come palcoscenico per gruppi e musicisti che cantavano in una delle lingue minorizzate dell'area alpino-mediterranea, Sunse Europe è ad oggi accreditata come kermes di incontro e confronto delle migliori produzioni artistiche in lingua minoritaria su scala europea. Suoni quindi, ma anche cinema e testi letterari che esprimono con visioni e parole identità esistenti e resistenti. Realizzata dalla cooperativa Informazione Friulana, società editrice di Radio Onde Furlane, con il sostegno di Regione, Arlef, Agenzia regionale per la lingua friulana e Fondazione Friuli, questa edizione ha decretato vincitrice Magali Sare, cantante 28enne e considerata fra le artiste più brillanti della scena musicale catalana, seguita rispettivamente dai makers dei Paesi Baschi e dai Sibs del Galles, mentre i favori del pubblico del Giovanni da Udine sono andati a Leon Mormen della Bassa Sassonia. Il cerimoniale consegna era rappresentato da Giovanni Govetto per il Comune di Udine, Sabrina Razom, funzionaria dei servizi linguistici e culturali ed Eros Cisirino, presidente di Arlef. Siamo alla pagina sportiva udinese in ritiro già da oggi in vista del Bologna, per essere questa la scelta della società dopo la sconfitta a Roma contro la Lazio. Se ne parla questa sera Bianconero XXL in diretta dalle 21, spazio anche al Pordenone, in campo questa sera a Pisa. E poi ancora la pallavolo, il basket, la ginnastica artistica con il talento dell'Asu, Carlo Magliocchetti. Sarà a Riedo Braida, l'ospite d'eccezione della festa del mister, che sabato alle 14.30 assegnerà diversi premi agli allenatori della provincia di Udine nel salone di Palazzo Belgrado. Per noi è il coronamento di un anno di lavoro, un anno di lavoro con gli aggiornamenti, con gli stage che facciamo con gli allenatori e alla fine dell'anno il premio Comuzzi quest'anno è giunto alla 25esima edizione. La prima medaglia che ha vinto, il primo premio che ha vinto il premio Comuzzi è stato Giovanni Galeone che era uno di famiglia del Gigi Comuzzi. Quest'anno andrà Nicola Sepulcri di Gonars, allena da sei anni la Juventina, però ha un trascorso col Torviscosa, col Sevegliano, con tante porpetto, con tante squadre di seconda e terza categoria ha cominciato dalla base e secondo me è un premio veramente meritato da parte sua. Chiudiamo con il premio allo sportivo friulano del calcio, dell'anno, chi avete scelto quest'anno? Ma penso che quest'anno... Sono sempre grandi nomi, quindi l'attesa è sempre tanta. Quest'anno abbiamo scelto Arieto Braida, un friulano di Precenico che nella sua storia ha calcato, ha lavorato con tantissime società, ha lavorato ultimamente a Barcellona e quindi oltre al Milan, oltre all'Udinese e quindi secondo me con grande soddisfazione tutto il gruppo dell'AIA di Udine ha fatto, ha nominato Arieto Braida come meritevole del premio allo sportivo friulano del calcio 2019. Ci fermiamo qui è tutto per questa edizione, grazie come sempre per la vostra cortese e attenzione vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Grazie a tutti.